buonasera cari amici dello scorpione anche per voi c'è la settimana che va dal 30 agosto al 5 settembre 2021 benissimo andiamo in fretta perché mi manca ancora qualche altro segno zodiacale allora voi state attendendo qualcosa bene iniziate la settimana con le vostre difficoltà quelle che avevate la settimana scorsa ve le portate ancora questa settimana perché forse non avete capito che dovete prendere una decisione siete bloccati state riflettendo tanto e vi trovate in un momento difficile dovete decidere ficcatevelo in testa dovete decidere è un momento di fermo di stasi non volete voi sapete sapete che se prendete la decisione dovete ed è una decisione che va incontro nell'eventualità alla situazione all'altra persona quello che è dovete prendervi le vostre responsabilità ma c'è mancanza di coraggio e chiarezza sembra che voi non non ne avete voglia non ne avete ancora voglia non siete convinti di fare determinate cose perché anche voi siete un po' diciamo frastornati che poi in realtà frastornati alla fine non è la parola esatta dovete abbandonare il comportamento da dittatore o dittatrice perché comunque sia non vi porta assolutamente a nulla infatti in amore indica una situazione di insoddisfazione nel rapporto fatta di litigi rancori infedeltà perché comunque siete stati anche infedeli ok ecco perché dovete decidere perché se prendete la decisione in amore nel vorrei nel voler rimanere con la vostra compagna il vostro compagno vostro marito vostra moglie o chi cavolo insomma è accanto a voi dovete comunque cercare anche di comportarvi in un determinato modo oppure dovete cercare di riflettere per non avere determinati comportamenti magari se non c'è stato del tradimento ma siete stati eventualmente duri dittatori autoritari e dovete abbandonare questi tipi di comportamenti e state riflettendo state pensando a cosa fare e se è il caso di proseguire andare avanti quindi prendendo una decisione oppure cercare di sbattervene perché perché non avete voglia delle vostre responsabilità per quanto riguarda invece nel lavoro ci sono dei conflitti dovuti all'eccesso perché voi 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 con calma le cose si fanno con calma non ci deve essere l'eccesso perché altrimenti innanzitutto non vi porta nulla in questo periodo e ripeto siete avete altri grilli per la testa comunque questo momento di difficoltà non è ancora finito proprio perché dovete guardarvi dentro dovete dovete analizzarvi e continua continua siete ansiosi avete delle paure poi avete questi scatti di dirabbia che comunque fanno paura dovete avere semplicemente autocontrollo non dovete essere comunque testardi e poi in un rapporto di coppia per chi ha un rapporto di coppia vedo ancora dell'immaturità siete ancora immaturi non siete in grado di fare delle scelte avete delle reazioni troppo forti reazioni di rabbia che ripeto torno a ripetere comunque fanno paura mettono paura dall'altro lato inutile che fate un espload urlando o magari non so facendo avendo chissà che genere di comportamento perché la persona che vi sta di fronte cioè è normale che si può spaventare ma ne ha tutti i diritti comunque cari amici dello scorpione eh cioè con calma e invece nel lavoro prendete delle decisioni troppo in fretta che non vi fanno arrivare da nessuna parte siete un po' troppo volubili esuberanti ma volubili cioè dovete dovete ponderare bene le cose anche le decisioni sul lavoro le dovete ponderare io non so cosa vi stia succedendo non siete fermi anche là non siete fermi non siete responsabili cioè avete paura di affrontare ma affrontare che la situazione non è neanche tanto grave come voi pensiate che sia cioè quindi nel sedersi e chiacchierare parlare risolvere perché forse non lo fate proprio perché siete voi che siete in difetto ma nel sedervi a tavolino e parlare che sia nell'ambito lavorativo che sia nell'ambito della relazione cioè lo potete fare non riesco a capire questa vostra ansia questa questa vostra paura che ripeto non c'è assolutamente nulla da temere l'unica cosa invece che qua è una bella bastonata che se volete cambiare la situazione una situazione che magari non vi fa star bene che sia nel lavoro ripeto che sia nella relazione vi fa star male e volete risolverla o raggiungere l'obiettivo a tutti i costi quindi l'unica cosa che dovete dovete fare innanzitutto vabbè ansie e paure devono essere buttate nella tazza del water e quindi le dovete completamente togliere e poi vi dovete prendere le vostre responsabilità dovete pagare a caro prezzo quello che avete fatto prima o i vostri comportamenti perché se non vi ficcate in testa ok io mi assumo la mia responsabilità io mi comporterò in un determinato modo io non tornerò a fare più gli stessi errori se fate queste cose chiaramente vi si metterà alla prova chi vi dovrà mettere alla prova giustamente per vedere in realtà se voi avete modificato dei vostri comportamenti o dei vostri modi comunque di pensare di ragionare e quindi pagherete a caro prezzo quello che avete fatto prima cercheranno di verificare veramente voi a che stato siete arrivati e solo così solo in questo modo riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi quindi ragazzi miei cioè prima di arrivare ok alla ruota della fortuna ad avere quello che volete quello che desiderato dovete galoppare e dovete pagare a caro prezzo quello che avete fatto prima quindi intanto marciate e comportatevi comportatevi come vi dovete comportare nel giusto modo ok prendetevi le vostre responsabilità sedetevi al tavolino parlate ragionate chiarite e andate avanti e andate avanti seguendo la retta via e non la strada che voi volete prendere che non si capisce che cavolo di strada è perché siete siete ancora fra le nuvole ma fra le nuvole cos'è che vi dice la vostra testa in questo momento comunque vabbè io vi ho detto quello che sarà la vostra settimana poi ci aggiorneremo per il la prossima ancora quindi nel frattempo vi auguro una buona serata per chi è fuori in giro una buona domenica per domani vi ricordo se passate da questo canale di cliccare di iscrivervi innanzitutto spuntare la campanellina per rimanere aggiornati ai miei video chiaramente se avete bisogno di un consulto ci sono i miei due numeri di telefono in base all'esigenza che avete potete scrivermi in whatsapp su uno dei due oppure chiedermi informazioni e io vi darò tutte le informazioni chiaramente di come avverrà il consulto io vi ringrazio e vi auguro una buona domenica